Burloni, bentornati in questo video di Marci Vlogs. Oggi ragazzi, Manager Ale mi ha dato un bellissimo pacco. All'interno c'era un bellissimo telefono, ma io ho voluto fare le cose in grande e non avevo niente per fare un unboxing serio. Così sono andato all'IKEA ed è successo qualcosa di interessante che vi spoilerò alla fine del video. Ma adesso andiamo con Marci che è andato all'IKEA per prendere questo mobile incredibile e vedrete il montaggio e poi l'unboxing. Ciao raga, sto andando all'IKEA, o meglio, siamo all'IKEA perché mi è arrivato un pacco da managerale ma ora con lo studio bisogna fare le cose in gran stile, quindi vado a comprare un megatavolo super bello. Vi porterò con me, come al solito! E lei ride, vabbè. Allora raga, abbiamo trovato il tavolo. La pianta che devo trovare non l'ho trovata perché c'è scritto che non... Boh, c'è scritto che ce n'è una disponibile in negozio ma sono venuto e non c'era, mi hanno detto che era quella in esposizione. Ci stanno guardando. Come ci stanno guardando? Oggi sono facendo dei segni, non ho capito. Allora andiamo via, andiamo via. Sì? No, non stiamo facendo niente. Raga, mi sa che ci stanno cacciando in qualche modo, non so se avete sentito cosa ci hanno detto. Raga, penso che mi sentiate e basta. Non possiamo filmare, c'è un tizio che... Non so perché c'è... Non so, devo abbassare la voce. Ah, è di là. Ok. Allora, non stiamo capendo la situazione. Ci ha seguito e ci ha fatto tipo dei segni. Andate, provo a filmarmi così. E come per dire, non so, cioè come se stessimo facendo una cosa di sbagliato. Ora ce l'abbiamo dietro. Stiamo facendo finta di niente. Cercando di capire cosa che vogliono da noi perché non abbiamo fatto niente alla fine. Stiamo solo cercando un mobile. Volete sapere com'è andata a finire all'IKEA? Aspettate la fine del video perché ne varrà veramente la pena. Adesso passiamo all'unboxing. Abbiamo la fotocamera qua sopra. Posso zoomarla ancora un pelino, ma dai. Ma sì, ma zoomiamola ancora un pelino. Allora, telefono Red Magic 7 Pro. Telefono veramente incredibile. È un telefono che mi ha stupito. Lo sto utilizzando da 8 giorni, 7-8 giorni. E adesso ne parliamo. Però prima facciamo l'unboxing. La scatola, come al solito, tutti i Red Magic super mega accattivante, ragazzi. Si vede che è un prodotto destinato al gaming e non ad altro, come diversi altri prodotti. A me piace tantissimo. Tutte le scatole dei Red Magic le tengo sempre. Io tendenzialmente tendo a buttare sempre tutto ultimamente. Sono diverso da un anno fa che tenevo sempre anche le piccole scatoline. Adesso mi tengo tutte e queste qua sono anche carine. Cosa abbiamo nella confezione? La solita coverina, che secondo me è carina. Ci sta sempre, secondo me, averla in un telefono. Non so perché i produttori non le mettano tutte. A me piace il fatto che ci sia una cover di gomma. Sempre comodo. Lo pesantisce un pochettino, ma ci sta. Ma andiamo al pezzo forte. Qui abbiamo il telefono, che ovviamente è già tutto settato. Ed eccolo qui, ragazzi. Esteticamente lo trovo veramente molto carino, ma pesa abbastanza. Non è un telefono leggero. Se vi è aspettato un telefono leggero, non ve lo aspettate. Se fate così, vedete che qua si vede? C'è la telecamera che è sotto al display. Questa è una feature molto carina, che però vi porterà ad un piccolo compromesso che parleremo fra poco. Il telefono, secondo me, esteticamente è molto bello. Io ho la versione quella non trasparente. Se dovete prenderla, trasparente tutta la vita, ma lo sapevamo già. Poi, all'interno della confezione, che cosa abbiamo? Abbiamo un divisorio. Io non so perché apprezzo sempre questi divisori stupidi. Abbiamo un cavo che non ho utilizzato perché avevo quello del vecchio Red Magic. Avevo lo stesso caricabatterie. Ho l'adattatore per la presa italiana. Super veloce, ragazzi. Ricarica rapida. Come ben sapete, ormai i Red Magic ci hanno abituato a questo tipo di ricariche super veloci. C'è qualcuno che mi sa che ci vuole cacciare fuori anche da casa. Ma parliamo un attimo del telefono. Io lo sto usando da otto giorni, in realtà. Come ben sapete, Snapdragon generazione 8 è fighissimo. È un gran processore. Forse il migliore è fulminio questo telefono, raga. È più veloce del mio telefono personale. E su questo non ho problemi a dirlo. Ha un pochettino rispetto ai precedenti. Se io vado a sbloccare il telefono, ci mette sempre un attimino. Cioè, devo sempre mettermi lì e cliccare più volte. Nulla di eclatante che non sia risolvibile, magari con un aggiornamento software. Io lo sto usando, ve lo voglio dimostrare, perché l'ultima volta mi avete detto No, ma non l'hai usato. Sì, lo utilizzo sempre, raga. Perché passo tutto il mio telefono, lo copio. Vedete che ho tutte le mie super applicazioni. Lo copio e lo utilizzo come se fosse il mio telefono principale. Partiamo dalle cose fighe. Lo schermo a 120 Hz, io lo adoro. Lo uso a 90 Hz per la batteria. La batteria è pazzesca, ragazzi. Dura tantissimo. Io non ho mai visto i telefoni di questo tipo. Se non li utilizzate per giocare tutto il giorno, che poi questa cosa è sbagliata, ma ci arriviamo dopo. Dura tantissimo la batteria. È full mio, raga. Apre tutto velocissimo. A chi è destinato questo telefono? È destinato a chi vuole giocare. E chi accetta dei compromessi. Perché parlo di questa cosa? Perché? Banalmente la fotocamera... Allora, quella dietro diciamo che è passabile. Non è così negativa. Oggi non ci ho fatto il vlog come ci faccio di solito. Non è così negativa. Adesso facciamo magari una clip che la inserisco all'interno del video. Allora, facciamo così. Io sto registrando. Sì, eccoci qua. Allora, sto registrando con il Red Magic 7 Pro. Questa è la qualità del telefono e questa è la qualità della mia fotocamera da 2.000 euro. Comunque non è così negativa, ma è un compromesso. Come è un compromesso anche la fotocamera frontale. Perché è sotto al disco. Togliendo questi piccoli compromessi, perché magari non siete abituati a fare tante foto, non siete sempre sui social, non vi interessano queste cose, lato gaming è pazzesco. E se mi chiedete perché è pazzesco, perché banalmente ha un tastino qua di fianco che basta cliccare, apre la sezione mobile di Red Magic, che secondo me è bellissima. È una di quelle cose super super carine. Ha i led qua dietro che sono super tamari, ragazzi, che sono gestiti da Red Core, che è un coprocessore. Clicchiamo su Fortnite, che è il gioco che sto giocando di più in realtà. Non è vero che sto giocando di più a Formula 1, ma di più a Fortnite. Perché banalmente questo? Perché semplicemente io sto utilizzando anche il joystick. Ok, vede che c'è anche il joystick. Se io lo accendo... Ok, me l'ha preso istantaneamente, ragazzi. E sta cosa a me piace particolarmente tanto. L'altra cosa che vi faccio vedere è che c'è un control center da questa parte, nel quale qui possiamo customizzare i grilletti qua sopra. Io banalmente li ho customizzati in questa maniera, con questo qui miro e con quest'altro sparo. Quindi la cosa è abbastanza, abbastanza carina. Inoltre, sempre dal control center potete decidere che cosa fare. Se mettere i 120 Hz, abbiamo la ventola, abbiamo un botto di future carine. In questo caso possiamo mettere anche il superlativo per mettere al massimo tutto. Poi volendo la ventola potete anche cliccare e si spegne. A chi consiglio questo telefono? Allora, se siete delle persone che amano a fare le foto, lasciate perdere. Se siete persone che amano a giocare, io ho tanti fan che amano a giocare, che giocano a COD Mobile, che giocano a Fortnite, che giocano a Real Racing, che giocano a Formula 1, che giocano a PUBG, a un sacco di giochi. Perché no, ragazzi? Anzi, di quelli che ho provato, gaming nell'ultimo periodo potenzialmente è il migliore. Io vi lascio tutti i link in descrizione se volete darci un'occhiata. Adesso vi lascio con la fine di quello che è successo all'Ikea perché è stato incredibile, veramente. Adesso siamo in un reparto che è decisamente sbagliato rispetto a quello che dobbiamo prendere noi. È una griglia? Direi di sì. Sì. Da qui la situazione ha iniziato un pochettino a complicarsi per il semplice fatto che il tizio si era leggermente alterato, neanche troppo, ma mi aveva chiesto di cancellare tutte le clip. E quando la stessi registrando in quel momento, di cancellare la sua voce e di stoppare assolutamente la registrazione. Siccome non voglio problemi ho deciso di oscurare proprio la traccia audio nel quale mi diceva le cose, non ha detto niente di che, banalmente ci ha accompagnato all'uscita e mi ha minacciato di denunciarmi per non so quale strano motivo e niente. Ma poi scoprirete che questa persona è un elemento particolare. Stavamo solo filmando perché ho un canale YouTube. Allora, alla fine sono riuscito tranquillamente ad uscire, a pagare, ma volevo togliermi quel sassolino e sono andato al servizio clienti chiedendo di questa persona. E ho chiesto se qualcun altro già si era lamentato di questo tizio strano. E qui arriva la parte bella. Nessuno del servizio clienti conosceva questa persona o l'aveva mai visto. Di conseguenza adesso mi viene il dubbio che questa persona non fosse realmente dell'IKEA e gli dava fastidio che stessi facendo un vlog o gli dessero fastidio gli YouTubers in generale. Ha visto me che gli ho detto che non ho YouTuber e gli ha dato fastidio. Non ne ho la più palida idea. Sta di fatto che per qualche secondo, quando mi ha amminacciato di denunciarmi, un pochettino di strizza mi è venuta. Solo che alla fine non avevo fatto niente di male. Avevo fatto una clip senza inquadrare niente. Si sentiva la voce dell'IKEA e basta, ma non penso sia un problema. Tutto è andato per il meglio e niente, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia strappato un sorriso e che vi abbia messo un pochettino l'ansia come l'ho avuto io proprio oggi. Che a raccontarvelo adesso mi viene quasi da ridere. Perché uscendo abbiamo scoperto che questa persona neanche la conoscevano quelli dell'IKEA. Ma chi era questo qui? Chi era? Non lo so. Quello che ha pensato la mia ragazza era che banalmente fosse un tizio. Avete presente quei vecchietti che vanno nei campi da caldo, nelle scuole di calcio, a dare una mano in magazzino, a portare i palloni in campo? Che fosse un tizio che a caso cercava di aiutare, però non lo so. Non ne ho la più palida idea. Comunque noi ci vediamo in un prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Da Marce è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.